Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al secondo episodio della serie termini base dell'investimento. Oggi andrò a spiegarvi le due tipologie di debito principali e la differenza tra debito buono e debito cattivo. Una persona può essere in debito con una banca, ad esempio quando chiediamo un mutuo, oppure può essere in debito con un'altra persona, ad esempio quando ci facciamo prestare cose o soldi, che dovremo restituire. A sua volta una banca potrebbe essere in debito con un'altra banca, ad esempio, oppure potrebbe essere in debito con alcuni stati del mondo. I governi del mondo possono essere in debito con le persone, quando queste ad esempio acquistano delle obbligazioni governative, oppure gli stati si possono trovare in debito rispetto ad altri stati o alle banche. Esistono due principali tipologie di debito. Queste due tipologie di debito hanno caratteristiche differenti. Un prestito è caratterizzato da una quantità fissata di denaro prestato, come ad esempio per il pagamento di una macchina o per l'accensione di un mutuo. Inoltre, per risanare il prestito, una persona provvede a pagamenti regolari, fino a quando l'interimporto non viene restituito alla data del termine del prestito. Invece, ogni volta che utilizziamo la carta di credito, ci viene concesso un piccolo prestito che va a sommarsi ai precedenti. Quindi, in questo caso, non abbiamo una quantità definita di soldi prestati. Inoltre, non si hanno pagamenti regolari e definiti nel tempo, e siccome possiamo mantenere la carta di credito attiva per tutto il tempo che vogliamo, anche se il nostro saldo rimane negativo per tutto il tempo, non è possibile definire chiaramente una data finale nella quale il debito è estinto. Ora invece vediamo la differenza tra debito buono e debito cattivo. Quando il valore dell'investimento supera il valore del debito che abbiamo contratto, allora si ha il debito buono, in quanto in questo caso avremo generato dei profitti a partire dal debito. Mentre in caso contrario, quando il valore dell'investimento non supera il valore del debito, si parla di debito cattivo. Ad esempio, se noi contrassimo un debito con tasso di interesse pari al 5% annuo, ma investissimo questi soldi in modo tale da garantirci un ritorno del 10% annuo, allora avremo un debito buono, in quanto ci garantisce una plusvalenza annuale del 5%. Mentre se con quel debito riuscissimo a generare un aumento delle entrate del 3%, allora quel debito è cattivo, in quanto ci troveremmo in una situazione di deficit del 2%. È evidente che quando possibile dovremmo eliminare il debito cattivo. Quindi, questo video era una semplice introduzione al debito e le sue caratteristiche. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale, per non perdervi i prossimi contenuti. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video.